A Corticelle Rimini ritrova il sorriso contro il fanalino di coda della gradatoria che veniva da buon momento, avendo bloccato tra l'altro anche la capolista alianese. I bianco-rossi invece quattro giorni prima avevano conosciuto ognuno dei quattro recuperi la sconfitta interna con la San Maurese. La squadra di Mastro Nicola inizia subito con il piglio giusto, cross di Simoncelli e gol di Casolla, ma la rite viene annullata secondo il giudizio arbitrale. Canalicchio si sostituisce poco dopo a Simoncelli, traversone al centro, Casolla risponde presente ma la sua girata viene neutralizzata da Costantino. Marchesi questa volta crossa per Gazzani, cui colpo di testa termina a lato. Poco dopo l'assolo di Pecci viene respinto da Costantino. Gazzani dall'altra parte da calcio piazzato spedisce a lato. Più preciso Casolla che chiama alla presa a terra Costantino. Passano i minuti dal rinvio di Scotti, Casolla insegue il pallone approfittando del pasticcio difensivo dei padroni di casa. La prendo io, la prendi tu, ma tra i due litiganti i terzi gode. Il Rimini passa in vantaggio proprio grazie alla marcatura del suo numero 17. Ancora Rimini pericoloso a questo calcio piazzato di Ricciardi, colpo di testa di Casolla, pallone alto. Ma lo stesso attaccante colleziona la personale doppietta quando Simoncelli, dopo uno scambio sulla fassa, mette al centro questo pallone per il colpo di tacco delizioso dell'attaccante. Maglia numero 17, 0 a 2 e chiusura dei giochi in maniera anticipata. Il Rimini nella ripresa insiste, cerca il tris, Costantino blocca. La replica dei Corticella è sterile. Il Rimini ancora sugli scudi, Ricciardi porta avanti la sfera ma conclude alto. Dall'altra parte, Corticella arriva alla conclusione dopo un disturbo in uscita subito da Scotti, ma la palla sorvola alla traversa. L'occasionissima capita per i padroni di casa. Poco dopo, Danetti viene steso in area di rigore. Ci sono dubbi per quanto riguarda questo penalty. In entrato si procura per appunto il rigore che lui stesso decide di battere, ma Scotti neutralizza il tiro dagli 11 metri. Nel finale, le squadre giocano a viso aperto. Ci provano nell'ordine a Lotti con Costantino che si rifugia in corner. Giannini prova la conclusione a giro, mentre Nannetti pennella per la testa e i tonnelli. Scotti è superlativo meritando la palma di migliore in campo. Tre punti che in vista dei tre recuperi da recuperare proiettano il Rimini al quinto posto in classifica, superato il Prato. Ora si pensa all'inserimento in zona playoff in maniera decisa. Per i Corticella un saluto quasi a questo torneo.